Mia figlia a 9 anni pesa 26 chili, cosa possiamo fare per interpretare questa magrezza eccessiva? Beh, anzitutto potete smettere di considerarla una magrezza eccessiva. Infatti 26 chili a 9 anni corrisponde all'incirca il 25esimo centile del peso, cioè un dato perfettamente dentro la normalità. Non sappiamo quanto è alta, potrebbe essere molto alta, d'accordo, ma sicuramente non è un peso patologico. Allora qui ci vedo due problemi. Uno, il fatto che voi invece di fidarvi delle curve abbiate un'interpretazione soggettiva della magrezza e quindi evidentemente un'aspettativa di peso che è superiore rispetto a quella corretta. La seconda cosa è che attribuite a questa assenza del vostro peso ideale una condizione di patologia che invece non è, come abbiamo detto più volte, la salute è fatta di attività, movimento, attività intellettuale e non certo di qualche chilo in più o in meno.